Eccoci qua! Siamo arrivati dopo 2 ore 45 di camminata, 14 chilometri, un po' di corsa. Monte Generoso. Sono le 10 di sera. Monte Generoso è qua. E' una notte bellissima, silenziosa e certo forse fa freddo, l'acqua ghiaccia. Sulla barba. Le borracce sono congelate, dunque dovremo aspettare un po', però una con la destra funziona. Questo è un video per gli appassionati della vita. Una vita che ci aspetta ogni giorno e ci dice vai, fallo. Prendi anche quel rischio se devi prenderlo. Perché chi non risica non rosica. E nei proverbi c'è sempre una grande verità. Ricordiamocelo sempre. Andiamo a riscoprire quello che i nostri avi conoscevano già. Allora, tutto il resto diventa più semplice quando ricordiamo quello che già sappiamo. Perché tutto è già stato detto. Tutte le mie parole sono già state dette. Non ho inventato niente. E nessuno è inventato niente. Perché tutto è patrimonio dell'umanità. Come questa costruzione sul Monte Generoso, a Mendrisio, in Svizzera. Che invito tutti a scoprire un giorno. Costruita dall'architetto Botta. Il tetto ticinese. Qua vedete alcuni dei suoi elementi. Abbiamo anche un po' di cultura. Se guardiamo un po' più sopra. Vedete? Alla mia sinistra. Ecco. E dire eccomi di nuovo. Questo è un video Un video Per dirvi che sto bene. E che se io sto bene Potete stare bene anche voi. Perché Come ho già detto Non esiste il bel tempo, il brutto tempo. C'è solo la pioggia che cade E il sole che splende E adesso L'immensità Di un cielo stellato Mi sta guardando e mi sta ascoltando Come voi state guardando e ascoltando me Perché nel piccolo c'è il grande E nel grande c'è il piccolo Allora A voi una buona notte Una buona giornata Perché questo video Lo pubblicherò Probabilmente Fra qualche ora Allora Quando lo vedrete L'avrò già pubblicato Sarà già rientrato a casa Per Una nuova avventura Dopo qualche ora di riposo Allora Haug Forza Avanti sempre Un abbraccio